Bene, dopo esserci soffermati sul piacere, vediamo ora insieme, brevemente, molto in sintesi, le trame degli altri romanzi di D'Annunzio, dopo il piacere ne scrive altri sei, abbiamo detto, ma noi tralasceremo il notturno, quindi ce ne rimangono da vedere cinque. Va detto, e D'Annunzio stesso l'aveva pensato, che questi romanzi sono stati raggruppati da D'Annunzio in delle cosiddette trilogie e il piacere insieme all'innocente e al trionfo della morte fa parte dei cosiddetti romanzi della rosa, perché la rosa è un fiore che rimanda all'idea di volutà, appunto, di piacere, una tematica presente in tutti e tre questi romanzi. Tuttavia, in un progetto precedente a quello dei romanzi della rosa, D'Annunzio aveva accorpato altri tre romanzi nella cosiddetta trilogia degli assassini, e questi romanzi sono Giovanni Episcopo, l'innocente e il trionfo della morte. Perché alcuni hanno definito questa trilogia degli assassini? Perché tutti i protagonisti si macchiano di un delitto, e qua c'è anche un richiamo all'influsso degli autori russi, come D'Osoieschi, ad esempio, Delitto in Delitto e Castigo. D'Annunzio, tra l'altro, in modo assolutamente innovativo e sperimentale, che sarà poi tipico del romanzo psicologico novecentesco, adotta la forma narrativa della confessione in prima persona per proporre dei casi clinici, attingendo proprio anche alla psichiatria criminale. Quindi questi romanzi sono narrati in prima persona, cosa che è assolutamente innovativa per l'epoca. Poi, in un altro raggruppamento, ci sono i romanzi del Giglio, Fiore simbolo di vitalità, potenza e anche decadenza. E qui, in realtà, c'è solo Le Vergine delle Rocce, perché gli altri due romanzi del progetto, La Grazia e L'Annunciazione, non vengono mai portati a termine, mai realizzati. Infine, una terza trilogia doveva essere quella dei romanzi del Melograno, frutto che rimanda alla gloria del trionfo, in una visione religiosa neopagana, secondo D'Annunzio, secondo quello che era il progetto di D'Annunzio. Anche qui il romanzo è uno solo, è il fuoco, perché la vittoria e il trionfo della vita non sono stati scritti. Se notate, nel progetto di D'Annunzio, nel grande progetto, si trattava di tre trilogie, tre romanzi della Rosa, tre del Giglio e tre del Melograno, richiamandosi all'influenza del calco dantesco, cioè di Dante, delle tre cantiche, della Divina Commedia. Nella sua totalità, l'insieme di tutti questi romanzi avrebbe dovuto esprimere proprio la poetica, la visione del mondo, della vita, tutto il mondo ideale, insomma, di D'Annunzio, fin dal piacere, quindi proprio la sensualità fisica legata alla terra, poi la caduta anche nel peccato, quindi è anche presente, è anche più comprensibile a questo punto, in quest'ottica più ampia, un po' la critica morale talvolta è presente nei confronti di Sperelli, e fino al trionfo della vita, quindi romanzi forse non più di sconfitti, ma di vittorie, in una visione religiosa, anche se appunto neopagana, non cristiana. Ecco, ma andiamo a vedere appunto velocemente questi romanzi, senza tenere più troppo conto di questo progetto di trilogie, in quanto appunto poi non è stato operato a termine, gli altri romanzi non sono stati scritti. Giovanni Episcopo è il secondo dei romanzi di D'Annunzio scritto e pubblicato nel 1891-92, anche esso è ambientato a Roma, come il piacere, alla fine dell'Ottocento. Qui abbiamo il tentativo di analizzare un crimine nella sua crudezza, senza trasposizione letteraria, cioè il protagonista narra la vicenda in prima persona, quindi un ritmo anche tipico del romanzo realista, questo, insomma, è vero che prefigura un po' anche il romanzo psicologico, come, che so, la coscienza di Zeno, in cui Zeno, appunto di Svevo, in cui Zeno racconta in prima persona, scrive come una sorta di diario le sue memorie, ma non solo, c'è anche l'idea del realismo, del verismo, di far parlare il protagonista di modo da togliere tutto quello che è l'intervento di un autore onnisciente e da rendere il romanzo più simile a un documento storico, storico, insomma, verosimile, in cui appunto non ci sia o sia minimizzato l'intervento e il commento del narratore, dell'autore. Qua quindi abbiamo un monologo convulso, agitato, in cui il protagonista ripercorre con la memoria la propria penosa vicenda. Nella sua vita ha sceso tutti i gradini della degradazione umana e sociale fino a toccare il fondo. Infatti all'inizio era un modesto impiegato che è riuscito a sposare la bella Ginevra, una donna che appunto lavorava in un locale dove spesso con i suoi colleghi Giovanni Episcopo andava a mensa e presto però la moglie ha iniziato a disprezzarlo, ma lui per mantenere in vita al matrimonio ne è rimasto succube e ha anzi voluto da lei un figlio nella speranza proprio di salvare il matrimonio. Però i problemi aumentano, soprattutto i problemi familiari, quindi a causa di questi si distrae molto dal lavoro e viene licenziato, per cui cade nel disastro, ha problemi in famiglia e non ha più un lavoro. Per dimenticare il disastro in cui è caduto, diventa schiavo dell'alcol e a causa anche di questo non riesce a opporsi alla prepotenza di un collega, un tale Giulio Vanzer, che arriva addirittura a vivere in casa sua e diviene persino l'amante di sua moglie di fronte ai suoi occhi. Però alla fine la sopportazione è troppa e quando Giulio inizia addirittura a picchiare, ad alzare le mani sulla moglie e sul figlio, allora Giovanni esplode e non riesce più ad accettare la situazione e prende un coltello da cucina con cui uccide Giulio. E vedete che qui anche proprio c'è la discesa morale attraverso tutti i gradini della degradazione, sia dal punto di vista degli affetti familiari sia dal punto di vista proprio morale, che porta poi il protagonista a commettere un crimine, anche se certamente per esasperazione, per una sorta di autodifesa. Però è un protagonista sconfitto, lui cercava di migliorare la propria condizione, di sposare una bella donna, sognava appunto di avere la famiglia e il lavoro ideali, quantomeno per lui, e invece perde ogni cosa. Nell'Innocente, pubblicato nel 1892, il protagonista è Tullio Hermel, un ex diplomatico e ricco proprietario terriero, quindi parlando dal punto di vista della classe sociale, sicuramente superiore a Giovanni Episcopo. L'ambientazione però è sempre la stessa, Roma è sempre di fine ottocento. In questo periodo d'annunzio vive la cosiddetta fase della bontà, cioè ha finito da poco di leggere gli autori russi, Tostoi, Dostoievski, quindi si ispira a loro per cercare di recuperare alla letteratura una sorta di anche valori morali, quindi la letteratura, il racconto anche come insegnamento di valori morali. E quindi c'è un senso di redenzione che però poi appare impossibile. Sono presenti comunque sempre le grandi caratteristiche delle opere di d'annunzio, le opere letterarie come il dandismo e lo sperimentalismo in campo, appunto soprattutto formale. Anche quest'opera è infatti narrata in prima persona dal protagonista in forma di confessione. Il titolo è riferito al bambino figlio di Tullio Hermel. Che succede? Tullio Hermel, come già Sperelli, come D'Annunzio stesso, era un uomo che aveva diverse relazioni e a un certo punto decide, proprio per recuperare la relazione con la moglie, decide di lasciare l'amante perché vuole ritornare ad essere un uomo corretto. La moglie, sempre fedele, però in un momento di debolezza, durante una fugace relazione era rimasta incinta. E quando confessa a Tullio questa cosa, Tullio prima dice sì accettiamo il bambino, ma poi il bambino impedisce effettivamente la ripresa della relazione ideale, corretta, buona con la moglie e quindi decide di eliminare il neonato innocente. Quindi da qui il titolo l'innocente. Come fa a eliminare questo neonato che ostacola la perfetta ripresa del loro amore? Lo espone al gelo della notte invernale. Non è che lo uccida proprio di persona, ma ne provoca la morte facendolo ammalare, di polmonite probabilmente. Il piccolo effettivamente si ammala e muore, però appunto dopo questo fatto un cupo sentimento di colpa, di desolazione, di fallimento, scende nell'animo di Tullio e anche in quello della moglie Giuliana che si sente sicuramente responsabile. E quindi i due si allontanano l'uno dall'altra, per cui era stato compiuto questo delitto, diciamo così. E poi non si verifica il sogno di Tullio di riprendere una relazione buona, positiva, ideale con la moglie. Anche qui è sconfitto. Vediamo ora il trionfo della morte pubblicato nel 1894. Il protagonista è Giorgio Aurispa, un ricco, giovane abruzzese, un'esteta. Quindi questi due aspetti, origini abruzzesi, esteta, colto, raffinato, sono tutti aspetti che sono di nuovo autobiografici, tipici dell'autore. Diversamente da D'Annunzio, Aurispa ha nobili discendenze e ha abbandonato, qua come D'Annunzio stesso, il paese nativo per trasferirsi a Roma. Il romanzo, infatti, è anch'esso ambientato a Roma alla fine dell'Ottocento. E qua, come forma anche di sperimentalismo, si ha proprio una precursione del romanzo psicologico. Infatti c'è un alternarsi delle vicende che cede il posto a una perpetua analisi introspettiva della coscienza del protagonista, molto accentuata rispetto ai romanzi precedenti, per piacere compreso. È anche presente, come sarà presente sempre di più negli altri romanzi, come comunque è presente in tutti, l'idea superomistica, cioè del protagonista che vuole essere al di sopra di tutti. Caratterizzato da una spiccata e raffinata sensibilità emotiva, sempre pronto ad analizzare ogni singolo evento e ogni emozione, Giorgio Aurispa è un esteta, un artista incapace di riaffermarsi nell'arte come nella vita. Ed è fatalmente prigioniero di una attrazione verso la morte che lo lega al destino di suo zio Demetrio, morto suicida, dal quale lui ha ereditato un ingente patrimonio, quindi è ricco, però ha sempre un senso di morte che lo pervate. Giorgio, infatti, si sente legato allo zio anche da una spiccata sensibilità e dall'insofferenza verso la mediocrità della vita, non sopporta le persone, le cose mediocri, le cose comuni e qua si vede il superuomo che disprezza le masse. Però non riesce ad essere il supereroe che vorrebbe e quindi è spinto verso un senso addirittura di morte. Il suo malessere lo porta più volte a progettare il suicidio senza mai arrivare ad attuarlo perché ogni volta rinuncia a suicidarsi, cambia idea perché è strappato da questa idea, dall'attaccamento alla vita che si manifesta soprattutto nella passione irruenta dell'amante, nel desiderio di ritorno alla terra delle proprie origini, quindi nel tentativo anche di fondersi con la natura, con uno stile di vita più semplice, oppure nel misticismo religioso e infine nella totale adesione allo spirito dionisiaco delle teorie superomistiche di Nietzsche. Quindi lui è attaccato alla vita per tutte queste ragioni, perché desidera l'amore, il piacere sensuale, oppure dice potrei tornarmene alla mia terra delle origini, fondermi nella natura, vivere semplicemente come gli antichi, oppure immergermi nella natura in un senso più religioso, quasi riprendendo lo spirito dionisiaco delle teorie di Nietzsche che potrebbe renderlo finalmente libero da ogni debolezza umana. Però non riesce in questi suoi sogni e incolperà alla fine l'amante Ippolita Sanzio di essere lei il vero ostacolo al suo tentativo di liberarsi dal desiderio di morte, causa proprio della passione lussuriosa che lei ha per lui e che assorbe tutte le sue energie vitali e anche tutta la possibilità per lui di elevarsi.